Ben trovati con lo spazio a cura di Meteocalabria.net. Ad una domenica molto mite, specialmente sulla bassa Calabria, seguirà l'arrivo di aree più fredde dai quadranti occidentali, che riporterà le temperature vicine alle medie del periodo. Domenica 10. Cielo più aperto sulle Tirreniche, dove ci attendiamo temperature veramente insolite per il mese di gennaio. Possibili valori diurni addirittura fino a 24-26 gradi fra la metina e piana di Gioia Tauro. Maggiore nuvolosità invece sulle Ioniche, ma senza fenomeni. Poi dalla tarda serata l'ingresso di aree più fredde dai quadranti nord-occidentali dovrebbe veicolare delle precipitazioni sull'alto Tirreno in estensione a macchia di Leopardo al resto della Calabria entro la notte. Temperature quinti molto mite alle ore diurne, in calo dalla serata. Venti moderati con rinforzi anche considerevoli nell'area dello stretto di Messina da sud, da Levante sul resto della Tirrenica e da nord sulle Ioniche, tendenti a disporsi da nord-ovest ovunque alla notte. Ma rimossi molto mosso il basso Ionio. Tempo decisamente più freddo per lunedì 11 gennaio, con la possibilità di piogge sparse sulle Tirrenica e forse localmente anche nell'interno. Venti di Maestrale. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.